Allora, buongiorno, sono le ore 17.02, stiamo eseguendo questo volo in compagnia delle nostre amiche che si chiamano? Tina, Elisa ed Elena. Io sono Massimo Menichini e ho l'onore di accompagnare in volo queste splendide donne. Lascio la telecamera accesa, così testimonierà tutte le facce che le nostre amiche faranno. Basteranno facce di meraviglia. Intanto le regalo subito Margherita. Cinture, piedi su freni e flap sono a zero. Interruttori elettrici disinseriti, chiave inserita, posizione off. Che vuol dire? Off-finito. Quando si accende è on, è on cominciato. Deve sopportarmelo per 15 minuti. Batteria, generatore, pompe elettriche inserite. Via dall'elica, si mette in moto sperando parta. A volte non parte. Ovvio, eh. Questa volta mi sa chi è inserita. Ha fatto a posto. No, no. Si respinge. C'è di bello e quando partono non si spenga più. Oh, è arrivato quando volano molto spesso come oggi. Sono meglio smuovili di te, semmai hanno un sacco di sofisticazioni. Io c'è il motore con l'elica attaccata, indietro a moto. Però è partito anche bene. Accendiamo la nostra radio. A2-5 riporterà la città. Eh, è un casino, sì. Guardiamo tutte le nostre forze. Accendiamo il pilot bandiometro durante il collision. L'orizzonte artificiale. Questo viene per certi tipi di volo. Chiamiamo alberraio. Allora, intanto facciamo un po' di prove motore. 1.500 giri, mettiamola alla calda e va bene. Chiudiamo la benzina e spinge. 1.800. 1.800, proviamo i magneti. Accendiamo la città a 1.000 piedi e malterra, forse stanno un po' di camera, lasciando. Secondo, magneti nei limiti, tutto a posto. E questo è rimasto in porta l'altra. Facciamo il predecollo con il 1.200. I prei che sono attaccati, magneti 1 più 2, master acceso, batteria, generatore, un po' elettrica, bandometro, luce anti-collision, flap, fuori una tacca, aria fredda, miscela elenca, primo elettormento accurato, benzina è aperta sul più pieno, i passeggeri sono a bordo. Luca Lindy, ecco, Pogstrot sarebbe pronto per il controvista. Pogstrot sarebbe pronto per il controvista. Pogstrot, che c'è il Pogstrot, l'indy auto? Allora, quando si dice che i piloti guidano con piedi, siamo proprio una scuola che si guida con piedi. Ora andiamo in fondo, eh? E poi ci giriamo e decolliamo in giro. Stiamo facendo il contropista con il nostro signore a bordo. Proviamo freni. Stiamo facendo fare le ore e le tante. Avete già volato? Sì, ma avete detto, è una riparenza. Sì, in serio? Sì, in serio? Ti ho detto? Sì, in serio? Ora ti scendo, eh? Tu te la fai la pia di un chilometro, eh? Ma adesso, in serio, non arriva a me, eh? Non le offendete, non le fa sapere che a voi, se la nana è noia. Allora, io ho fatto il volo da Firenze a Bologna con la Zierbe e con l'Aeroporto e... No, che l'isola? Il mio figliolo, posso rispondere? Vai, vai, si, si, che voglia. Pronto? Villa. Può rispondere sì, ma che ci fanno? La mia, che ci fanno? Io sto pensando sull'aere, ma... Allora, a che ora? Un pezzo del sette, va bene, ok, vai. Sono sempre a terra per te, eh? Per ora? Stiamo dopo lì, riesce a che si decolla. L'ultima volta è decollato, non so se vi succederà un'altra volta. Vai, ciao. Vai giù con il nonno. Ok, formazione da India 4383 Ultralight. Via 4383 Luca. Buongiorno, India 4383. Per informazioni di traffico, Fucicchio 1500 piani, diretto a Montegatini, stimato 7 piani. Fucicchio Montegatini, poi... Buongiorno, di nuovo Fucicchio e Valdera. Ok, ricevuto. Con Firenze radar, se volete, 1-2-5-8-2-5. 1-2-5-8-5-0-5-0-6. Avola, dove è capito? Luca, informazioni, l'India Co-Poxtrot è pronto al decollo. Co-Poxtrot, Luca 2-8, libero di iscrizione, vento 2-7-0 gradi, 4 ruote. Il principio avuto a decolle all'Eco-Poxtrot. Via! Di parte! La potenza! La potenza c'è tutto, la velocità è in aumento, 40 nodi, 50 nodi, e lo riscioglio, 60 nodi, ed eccolo qua. 70 nodi, la potenza c'è tutto, la velocità è in aumento, 300 piedi, togliamo una. Guardi, sono tutti più attaglieri, 60 nodi, 50 nodi, 10 lado e 8 populations, 50 nodi, compris ogni fotocirica. Per entrare, con il rapporto della facoltà a suoloo, rimando a dire su���i, la velocità è in hundrede e il seconda è in Hanson. Per altro差, un rischio, è stupendo, più attualmente, che fuori ... tti, nel terzo, un peso elettorio, Sì, non è mai vero, è Sant'Andrea, non è vero Nord del campo, ecco, forza, 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 forza La madonna degli aranci, vero? Quella dopo la lega, mi ho perduto l'occa, no? Perché lo vedo strumenti musicali Sì, si senti a scopo Sì, non è vero L'ospedale, non ho stronzo, non ho scopo Un po' poco palavra E' un po' poco sono felicissime, stanno vedendo Luca da un'angolazione ora le facciamo un giro, il modo migliore per fare le foto è con il sole all'espasso siamo a una quota di 800 piedi, quindi circa 250 metri la stessa è stata un'angolazione, è stata un'angolazione, è stata un'angolazione l'acquedotto romano, è un'opera di incendieria incredibile, non è del tempio romano Lui scala un po' percorso, da India a destra, ecco Charlie Romer e allora Luca, po' percorso al parcheggio, 3 persone a bordo, autonomia due ore e mezzo, ristruzione rullaggio 3,080, cacolo, 05, di Costella, alfa, traffico e interagio 1,05, con traffico e vista, mantiene questa è una volta in campo grande tutte informazioni l'India è composto per 900 piedi la città la lascia in stando a torno del campo è stato stadio ma io ho fatto un passo di qua la città la lascia in stando a torno del campo qui abbiamo fatto look e adesso ci dirigiamo al nord del campo il campo è quello spazio del Delà l'ospedale vediamo un po' che pilota lo spesso prova a pulciare le mani proprio delicatamente prova a pilare a sinistra e vai sta pilotando lei guarda ecco qua andiamo contro la montagna andiamo contro la montagna andiamo contro la montagna andiamo contro no 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 come per il mare mamma mia non ha fatto nulla poverina il bello è che l'aeroplano meno noia lì si dà ha detto si sente male urla più forte l'hanno provata anche le emozioni guardiamo le facce di quelle dietro l'emozione della pilota che però si è comportata molto bene è stata delicata provato perché meglio l'emozione della macchina se giri va a sinistra e ci va poi lo riagentrizi e arriva a diritto mentre la macchina la deve tenere in volante ma lei ha fatto acqua e la faccia no no evitiamo Lucca l'India ecco poco più di una volta del campo 900m quando sta rocci è rivolto a Lucca l'inzio no no e oggi ancora il treno sta finale il loro è riuscito a finale due volte non per male ora davanti a noi c'è Montecalco mentre qua c'è Porcari adesso siamo su Porcari lì qui lo sta aspettando a Torre del Tocchetto no lì invece si vede Montecalco a merito della piattaforma ora apriamo un tempo e ci andiamo a preparare per la terrazza questa è Montecalco Montecalco alla mostra sinistra è molto calda dietro c'è dietro c'è Montecalco Montecalco di pesce cominciamo a andare a pittare l'aereofrano perché andiamo alla centrale l'aereofrano perché andiamo alla centrale l'aereofrano almeno dovrebbe essere l'aereofrano almeno dovrebbe essere l'aereofrano il motore la mettiamo e giriamo fuori a l'aereofrano 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 attacchiamo la pompa batteria generatore pompa elettrica fluff fuori alla fredda miscela ricca e un po' di trim è ciò anche se siamo in alterraggio siamo in alterraggio siamo in alterraggio perché l'aereofrano 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 strukt briefing l'as spots Ora sentirete dei fischiettini, vivi di un cicalino, non vi preoccupate, è una cosa normalissima, avverte che siamo alla velocità di atterraggio. Succede anche negli aerei più grossi però il pilota è in un altro posto, quindi non si sente. Gli alberi rompono un po' le scatole, dobbiamo passare sopra e poi quando siamo sopra ecco il fischio, ve l'avevo detto. Allora sentiamo, senti il fischio. Grazie, applauditi quando siamo fermi. Ma ha fatto un grande piacere, sono contento di avere... Ringrazio le mie passeggere, che non sono le mie passeggere, sono le mie ospiti perché per la festa della donna siamo al servizio di quel giorno unico. Tutto l'onesto fate voi. Grazie. Sto scherzando. Grazie, spero di averla a bordo della nostra compagnia. Le ringrazio per la preferenza, al prossimo volo. Grazie.